problemi digestivi un po di reflusso a volte bruciore di stomaco senso di gonfiore vi propongo una tisana dopo pasto che potrà aiutarvi a contrastare questi disturbi ed è a base di semi di finocchio i semi di finocchio sappiamo che si danno anche bambini per contrastare le colichette perché sono calmanti e aiutano a contrastare il gonfiore addominale per diciamo vi do le dosi per due tazze mettete un cucchiaino a bollire di semi di finocchio e poi abbiamo i semi di coriandolo anche questi aiutano a digerire aiutano appunto quindi anche a contrastare il senso di reflusso il disturbo da reflusso e a contrastare il gonfiore addominale il terzo ingrediente è il cardamomo che appartiene alla stessa famiglia dello zenzero però diciamo non a tutti piace lo zenzero e a volte anche quel gusto piccantino può dare fastidio tra l'altro il gusto del cardamomo è particolarmente agrumato dovete semplicemente incidere appena appena questi baccelli perché all'interno contengono i semini proprio quelli che sono benefici pensate addirittura che si dice che si può così tenere in bocca un baccello di cardamomo quando abbiamo un pochino di nausea perché senza ovviamente deglutirlo perché aiuta un pochino a contrastare il fastidio e anche profuma la bocca ecco qui quindi lo incidiamo appena e lo mettiamo a bollire quindi per due tazze quattro baccelli ecco qui ho tre e quattro ripeto le dosi quindi un cucchiaino di semi di coriandolo un cucchiaino di semi di finocchio e quattro baccelli di cardamomo per due tazze per una tisana dopo pasto quindi che aiuta a digerire che aiuta a contrastare il reflusso e anche il gonfiore addominale lo dobbiamo far bollire circa cinque minuti ovviamente qui per motivi di insomma di tempi nello studio non posso farlo bollire così a lungo lo giriamo ma già si sente il profumo e già insomma vi faccio vedere il colore lo versiamo in una tisaniera ecco qui e copriamo perché copriamo in modo tale da lasciare in infusione ancora qualche minuto e non rischiare che alcune proprietà dei nostri semini possano essere volatili e quindi andare via insieme con i vapori per cui sempre quando facciamo una tisana o un decotto lasciamo l'infusione coperto se non avete un coperchietto potete usare anche un piattino eccolo qui guardate che bel colore e questa qui è una tisana dopo pasto in realtà è un decotto perché appunto abbiamo fatto bollire i semi perché i semi per rilasciare al meglio le loro proprietà hanno bisogno di bollire cinque minuti in questo caso i semi per rilasciare al meglio le loro proprietà hanno bisogno di bollire gu Одin